Ricordiamo che aveva 19 minuti da teseria per l'invisione alle gare di domani, non l'avete ancora fatto. E se come ci ha fatto dire, ci ha fatto attaccare e poi ha ripreso. Ma che certi dici, se sei dopo questo. L'ho ritenuto un brutto colopio. L'ho ritenuto un brutto colopio. Era sport. Là, proprio sotto la luce. Ha. 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 le domande guarda quello che fai guardati guarda 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 avanti vai un po' di più guarda guarda avanti centro guarda 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 Che ha? Che ha? Che ha? Dai! Dai! Guarda avanti! Dai! Dai! Guarda dentro! Che ha? Che ha? Guarda avanti! Guarda! Guarda! Vai! Guarda avanti! Guarda avanti! Aí! Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.